L'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo ha tenuto un incontro attraverso videoconferenza con le realtà interessate alla forestazione nella regione Calabria. Calabria Verde, gli altri istituti del settore e tra gli altri anche i segretari del sindacato o dei lavoratori si sono confrontati con l'assessore sulle varie tematiche in tempo di coronavirus. Il primo punto affrontato è stato quello della cassa integrazione con la decisione di assicurare nello strumento degli ammortizzatori sociali anche la quota parte non coperta con la garanzia dunque di assicurare il 100% della retribuzione di base. L'altro tema molto delicato affrontato è stato quello del taglio di 40 milioni di Euro operato dal governo in questo settore. Su questo punto si è concordata un'azione sinergica per evitare un riflesso negativo sui lavoratori del settore che rimane strategico negli obiettivi del programma di governo della nuova giunta regionale. In relazione a questa ultima questione, l'assessore Gallo ha illustrato i contenuti del piano annuale regionale della forestazione con il relativo impegno di puntare sulla produttività del sistema forestale e su tutta la materia riguardante questo importante segmento, dalla prevenzione incendi alle frane e agli smontamenti che sono i limiti ed i pericoli per il mantenimento di un decisivo equilibrio territoriale e geologico. Sull'incontro le segretarie regionali del sindacato e del comparto hanno espresso un giudizio positivo nel momento in cui, hanno detto, dialogo e concertazione sono stati esplicitati come nuova metodologia proprio dall'assessore all'agricoltura.